Allora mister, riprendiamo da quello che era stato l'ultimo passaggio del pre-partita. La parola è sempre quella, equilibrio. Questo è uno schiaffo che fa male, indubbiamente, non possiamo negarlo, ma non bisogna adesso cadere nei drammi, nei catastrofismi, in tutto quello che sicuramente seguirà questa sconfitta, che, lo ripeto, fa male, ma bisogna valutarla con calma. Sì, devo essere sincero, abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, abbiamo avuto un periodo di situazione al gol. Loro non avevano creato l'occasione al gol, c'è stato questo rigore un po' particolare che è stato dato, hanno sbagliato. Noi abbiamo fatto un buon prima, nel secondo tempo non siamo scesi in campo, secondo me. Non riesco a capire il perché, ma nel secondo tempo ci è mancato tutto, ci è mancato gioco, ci è mancato cattiveria con istra, ci è mancato marcamento, ci è mancato tutto. Non riesco a capirlo, bisogna fare male, sicuramente ci vuole equilibrio, però se si gioca così non si va da nessuna parte, c'è bisogno di giocare meglio a calcio perché la categoria è questa qua. È inconcepibile la trasformazione tra il primo e il secondo tempo. Nel primo tempo non abbiamo concesso assolutamente niente su un campo difficile. Nel secondo tempo loro hanno avuto queste due occasioni fulmine, nella prima due giocatori si sono spostati e c'è stato questo gol. Questo è uno schiaffo, possiamo considerarlo così, che può probabilmente anche tornare utile per cercare di ripetere certi errori. Si è visto un po' l'atteggiamento che si era visto anche nella gara d'andato con l'Audace e poi riprisa nell'ultimo momento. La squadra deve stare sempre sul pezzo? No, sicuramente. C'è da dire che oggi anche a livello di cambi non avevamo cambi perché tranne Varsi, Graziotto veniva da uno infortunio serio. Avevamo solo cambi giovani, quindi non c'era neanche la possibilità di ribaltare un attimo la partita anche tatticamente. Sì, questa squadra io non me l'aspettavo, devo essere sincero, perché quando vai fuori casa, è una squadra esperta. Noi abbiamo 4-5 giocatori che hanno 32-33 anni, quindi vai fuori casa, sei esperto, devi gestire il risultato, non puoi commettere questi tipi di errori. Mister, adesso che settimana ci aspetta e che partita ci aspetta già con Sansevero? No, aspetta una settimana di lavoro importante, cerchiamo di recuperare qualcuno, Ganci lo recuperiamo, poi dobbiamo recuperare possibilmente Bonasia, bisogna cambiare atteggiamento. L'atteggiamento non è quello giusto secondo me, la responsabilità sicuramente, mi piglio tutte le responsabilità perché veramente secondo tempo non siamo scesi in campo. Io sono il responsabile principale, però tutti quanti ci dobbiamo dare una mossa e dobbiamo fare meglio.